Il telefonino nelle mani di bambini e ragazzi e adolescenti è il primo vettore di moltissimi reati che coinvolgono i minori. L'attività della Polizia Postale negli ultimi anni si è incentrata proprio sulla prevenzione e repressione di questi crimini anche molto gravi che vanno dalla pornografia minorile al cyberbullismo ma anche alla diffusione di altre forme di aggressione nei loro confronti come le condotte autolesioniste, le cosiddette challenges come Blue Whale e il binge drinking. Ad aggravare la situazione il fatto che questi reati vengono spesso commessi attraverso comunità che si collegano dall'estero. Una parte importante è quindi anche quella della cooperazione internazionale instaurata nel corso degli anni dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online attraverso Europol e Interpol sia con i paesi europei che extraeuropei. Lo scorso anno sono state indagate per sfruttamento sessuale dei minori online, 650 persone. Le indagini relativa al fenomeno dell'adescamento di minori online hanno consentito invece di indagare 180 persone anche in operazioni con agenti sotto copertura. Un fenomeno particolarmente insidioso che ha fatto breccia tra i giovani e i giovanissimi è quello degli stickers. Si tratta di adesivi digitali gratuiti che possono però essere modificati con contenuti spesso discriminatori, antisemiti e anche pedopornografici. I pedofili poi si fanno sempre più sfacciati come dimostra anche l'operazione Darknet che ha coinvolto un sessantenne che aveva diffuso immagini particolarmente violente con abusi sessuali su minori anche in tenerissima età. In Friuli Venezia Giulia l'operazione Little Players è condotta dalla polizia postale di Udine dopo la segnalazione di un sacerdote nei confronti di un suo ex alunno e questa indagine ha portato alla scoperta nel computer dell'uomo di materiale pedopornografico scambiato con altri utenti attraverso un noto servizio di messagistica istantanea Kik. Sono stati così individuati ben 36 soggetti che detenevano e divulgavano questo materiale attraverso link a spazi cloud dove archiviavano foto e video pedopornografici. Sono stati nel complesso individuati durante l'ultimo anno più di 46.000 siti internet di cui 2.280 inseriti in blacklist e oscurati in quanto avevano contenuti pedopornografici. Ma i reatti informatici colpiscono anche gli adulti. Sono stati indagati nell'ultimo anno 288 persone per estorsioni a sfondo sessuale, stalking, molestie, minacce sui social network, revenge e porno, un fenomeno in continua crescita per il quale sono state indagate 24 persone e poi diffamazioni online, ben 514 casi, ricatti online. 2.000 spazi social sono stati poi monitorati anche per il contrasto dei reati di incitamento all'odio condotte discriminatorie di genere, antisemite, xenofobe o di estrema destra. Le truffe online sono poi in continua crescita. Nel 2019 sono state ricevute e trattate 196.000 segnalazioni con 3.620 persone indagate. Si va dalle truffe romantiche con donne dai 40 ai 60 anni, circuite da uomini conosciuti in rete ma in realtà a caccia di denaro facile, al trading online, dove gli utenti sono allettati dalla prospettiva di facili guadagni derivanti da investimenti sicuri, però del tutto falsi. E infine la minaccia cyber colpisce società, aziende, enti, compreso lo Stato, con attacchi ad infrastrutture critiche nazionali in aumento di oltre il 30%, sino a raggiungere più di 82.000 alert. Per finire con il cybercrimine finanziario e il cyberterrorismo. Internet è spesso lo strumento di propaganda preferito dagli estremisti e sono oltre 32.000 gli spazi web monitorati con la rimozione di centinaia di contenuti e in qualche caso l'individuazione di lupi solitari che hanno agito preparando stragi e attentati in varie parti del mondo. Abbiamo il mondo in tasca nel nostro smartphone ed è sempre più importante prendere consapevolezza dei vantaggi ma anche dei rischi che questo comporta.